allora abbiamo fatto settimana scorsa un video che poi dopo ci agganceremo al quale ci agganceremo ma volevo iniziare un attimo parlando appunto di un qualcosa alla quale già abbiamo provato a discutere e sul quale argomento ci teniamo molto che è il decoro, il decoro da intendere appunto in un certo modo e su più aspetti che riguardano la quotidianità quindi può essere il lavoro, sul lavoro eccetera ma anche un decoro poi interiore che è quello proprio più diciamo importante come lo è anche la bellezza la bellezza che diciamo è bellezza nel momento in cui è interiore nel momento in cui diciamo puliamo, togliamo dentro di noi per poi scegliere anche la via di Cristo, questa via di cammino e di luce però partiamo appunto dalla parola del decoro e due parole poi cosa cosa ne pensi e cosa intendiamo appunto per decoro che è forse un po' diverso da eleganza sì, sì mi aveva colpito, ora l'anno scorso poi avevo un po' lasciato questo autore ma avevo letto diversi libri francesi che aveva scritto pagine proprio sull'aspetto, sul decoro e lui lo spiega un po' chiaro c'è il decoro esteriore e c'è poi il decoro interiore ma decoro vuol dire che una cosa che deve essere confacente è proprio essere la propria vita quindi anche il vestito, anche il modo di presentarsi qualcuno poi li confonde il decoro con stile di vita che può essere anche un altro aspetto, può essere una parola importante, lo stile di vita ecco, e decoro significa proprio, non so come spiegarlo che tutto deve essere un po' anche l'esterno, deve corrispondere alla propria interiorità altrimenti c'è una separazione, ecco, qualche cosa che non corrisponde io posso essere magari anche ricco interiormente ma se mi comporto esternamente o mi vesto in un modo capisco che qualcosa non funziona e certe volte questa mancanza di decoro sia nel modo di presentarsi, nel modo di essere, nel modo di parlare anche nel modo di confrontarsi, nel modo di allogare, nel modo di salutare, tante cose che rivela proprio un modo di essere, ecco, di quello che noi siamo purtroppo oggi, beh, non soltanto oggi sinceramente, no, ma soprattutto oggi ecco, si punta molto sull'esteriorità, sull'apparire per cui cantante, ripeto, che nei miei tempi, no, negli anni sessanta insomma, capelli lunghi, uno si presentava in un modo però c'era anche il valore della canzone, no quindi questa era un po' una coreografia, no oggi è rimasta la coreografia, non c'è più il valore neanche di una canzone, no perché, allora, uno si presenta, fa quattro salti e fa lo scemo e dico, ma va bene, chi la su e giù colpisce mai le ragazzine, le ragazzine, no però dico, non c'è nient'altro quindi si punta molto sull'aspetto esteriore colpire, no, colpire e certe volte si arriva anche a una certa indecenza ho visto anche ieri, cantanti sono, che magari mi aspettavo fino all'altro giorno che si mettono agli atteggiamenti veramente volgari, no tutto perché? Perché vogliono far parlare di sé, no perché? Forse perché non credono più nel valore anche di quello che loro recitano o canzoni o eccetera, devono sempre provocare, no e il caso di Mareskin si chiama questo è un esempio vergognoso perché sono tutto tranne che i cantanti, sono tutto tranne che, che non so vabbè io, tramo del cielo, ma a me non piace la musica leggera e va bene, chiuso il discorso, no però oggi è tutto un'apparenza tutto proprio scende nella volgarità, nella stupidità tu basta essere un po' cretini, metter sui, e nuovo, metter sui tacchi metter su la gonna e poi a posto, no, perché provoca che cosa provoca? ma poi è la corrente, quello che va in voga adesso è quello che, diciamo, bisogna fare diversi e alla fine si cade in qualcosa di estremamente, forse, banale perché non, rimane ben poco di tutto questo sì, cioè, forse perché mancano i valori e allora, chiaro, no, si aggrappola tutto ma quando si parla di decoro, neanche del vestito, no io dico, non ammetto, beh, una ragazza può anche andare in giro, va bene insomma, certe volte si può anche lasciare una certa libertà alle ragazzine, no però tu, sei in una posizione, hai una certa responsabilità sei in comune a fare, come si chiama la dipendente comunale come si chiamano quelle lì che sono in comune assessori no, a contatto con i publi e lì deve essere vestiti in un modo decente, in un modo decoroso tu vai in chiesa, devi vestirti in un modo decoroso rispettando anche il fatto che tu sei in chiesa per cui il decoro significa anche aderenza, no ha un determinato ambiente, ha un pensiero esatto, perché comunque il decoro altrimenti dico, niente, no e poi dipende, no quindi, anche perché, insomma, adesso lasciamo stare l'uomo e qui forse è più la donna, no è più la donna che provoca e che se si mette lì, no anche la maniera si presenta con uno vestito, io dico, dignitoso che poi non sto guardando i centimetri o mica centimetri la cosa se è corta, se è lunga o se è sui pantaloni o no è la presenza decorosa, no è lì che dà valore anche a una donna ma scherziamo io non accetto più queste scemenze di dire bisogna essere libero non libero che cosa ma non è questa non è questa la vera libertà poi perché adesso la donna più è popolare più vuole essere popolare più si sveste e più deve far vedere le forme la carne eccetera e vabbè ma nello stesso tempo quello che forse dobbiamo far capire è che il decoro è veramente una questione di tutto di un insieme quindi ritorniamo anche al concetto di uno di dello stesso filosofo Plotino in cui il decoro è un decoro di pensiero di parola e di azione quindi è tutto insieme è tutta una cosa che confluisce in un unico uno sì 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 perché e alla fine don giorgio quello che volevo cioè che si vuole anche sottolineare è che più ti ti pulisci dentro più togli dentro più ti fai bella dentro più ti fai bello dentro e quindi più dentro diventi decoroso o comunque nobile diciamo nobile esatto esatto e più anche fuori sei portato a essere chiaro 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 poi anche fuori cioè fuori riveli quello che sei esatto e non ti interessa più avere il vestito con 100.000 paillettes oppure i perché diventa tutta una cosa ma il problema Martina è che certe volte a fare degli esempi subito ci sono persone ecco che non accettano esatto ma gli esempi bisogna anche farli no? sembra quasi che noi puntiamo soltanto perché siamo bigotti a parte il fatto non siamo bigotti siamo gli spiriti liberi più di questo mondo siamo liberi in tutto no? nel senso di dire che non siamo eh legati a una certa concezione religiosa a un certo bigottismo a una certa qui no? quindi ragioniamo con la testa non appuntiamo l'essenziale ma anche adesso io dico ieri l'altro giorno mi sembra molto quello lì di Torino come si chiama Angelo? Piovano mi pare che si chiamava così tutto pieno di tatuaggi ed essere quello che ha vinto più non so forse Guinness se dice Guinness no? no? perché ma non c'era mica un un non dico un centimetro un millimetro del suo corpo che non fosse tatuato una cosa schifosa il sindaco di Torino ha detto adesso ci mancherai ma che cosa ci manca? che cosa ci manca? allora tu anch'io vedi i giocatori tatuati uno schifo enorme vedi i cantati tatuati donne uomini uomini ma gli dico a me fa il prezzo ma perché? io dico ma anche il corpo non ha una certa dignità di rispettarsi no? di rispettare come corpo insomma no ma perché devi mettere su qualche cosa in più o toglier male quelle cose in meno tu sei quello che sei chiuso e quello che sei dignitoso per quello che sei certo si può anche magari un pochettino a truccare se si può un pochettino non lo so il contrario a queste cose ma cosa vuol dire? dove c'è il decoro? poi io vedo un medico che è tatuato io lo prendo a botte io vedo un infermiera tatuato la prendo a botte è uno schifo è uno schifo va bene? e dite quello che volete la dignità nella persona poi insomma vestirsi in un modo ti dà una certa anche dignità nobiltà di comportamento diciamo è una bella ragazza ma è tutto il senso no? e poi sei brutta scusa eh se posso dire che è brutta perché è difficile dire bello e brutta perché si cade sempre in una certa valutazione esteriore ha maggior ragione ha maggior ragione ma cerca di essere un pochettino no? perché se tu puoi esageri ancora sei ancora molto 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 più brutta molto più volgare no? come si dice il decoro certo non è soltanto un aspetto esteriore adesso abbiamo un pochettino no? ecco puntato su quello ma anche in chiesa io dico quando avevo in mano alla parrocchia non si può accettare una che va su a leggere sbracciata in miligono ma scherziamo no? tu entri in chiesa ti entri dignitoso eh ma tu tu sai che vai in chiesa ti vesti in un certo modo come se vai a teatro ti vesti in un certo modo cioè vai alla scala in Milano e ti vesti in un certo modo perché sai che se no magari non ti fanno entrare non ti fanno entrare va bene allora tu sei credente va bene a meno che va bene può capitare passi via vedi che c'è una messa sei andata a sparso c'è un gol metterlo su eccetera eccetera i matrimoni queste queste spose non sono tutte lasciamo perdere no? ma perché? allora vieni a messa ti metti su vai fuori va bene togli fa quello che vuoi vai in chiesa è chiesa c'è una certa dignità no? questo è il decoro poi il decoro in tutto adesso non abbiamo il discorso il decoro nell'arte il decoro anche nelle strutture delle chiese il decoro perché il decoro coinvolge in tutti gli aspetti sì 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 ma il decoro anche proprio nel pensiero cioè in è chiaro se uno se uno ha un pensiero nobile è chiaro che poi tutto ne viene di conseguenza esatto perché queste insomma c'è questa moda qui adesso perché ci hanno detto niente in zucca no? niente è quello che è quello che probabilmente non è stato forse compreso nel video che abbiamo fatto precedentemente che è proprio il fatto questo che è tutto puntato sempre sull'apparire poi sai che la gente insomma va bene poi ci sono tutti i giochi i commerciali eccetera questi qua fanno fortuna perché si vestono così perché fanno quattro sci sono quattro scemi saltano da scemi no? e allora è tutto un giro eh ma questi qui sono degli schiavetti eh schiavetti di una moda di un sistema no? di più a vent'anni pensa un po' che sì ma poi sai che come fumo no? poi spariscono così perché poi arrivano ma io dico ma pur lasciando anche un po' di estrosità insomma tu metti Renato Zero ma Renato Zero ma piaceva ma ha fatto la sua gavetta ma qualche canzone due canzoni belle che ma lui era così ma ma non mi dispiaceva ma perché era così ma non è mai stato proprio volgare no? il suo modo di provocare un po' perché è giusto provocare un po' no? perché tu hai una bella canzone provochi per farti ascoltare no? altrimenti però c'è anche qui il decoro c'è un limite il bello è esatto c'è sempre quella giusta misura che bisogna saper cogliere la misura era una parola centrale nella filosofia greca la misura di tutti io era la misura esatto ma va bene ma questo è capire il limite capire tutto quindi anche lì dobbiamo cercare né di essere troppo diciamo bigotti per dire scandalizzarsi ma non è che si scandalizza non è quello è che forse si vede si vede in modo diverso forse si vede una certa anche io capita di vedere dei video anche perché dico mi piace magari una pianista si mette di suonare cavoli o scena del suo modo mezzaluda tutto fa vedere le cosce che sa ma dove lì la musica non la senti più non la senti più la musca perché guardi quella che ti distrae continuamente allora c'è modo anche di vestirsi una volta immaginarsi è più decoroso l'uomo su questo aspetto perché avessi un uomo un'altra uomo ma avessi una donna più vabbè però c'è anche la deguità vai se tu in un concerto c'era una il direttore no? poi ci sono dei direttori che fanno anche loro gli stupidi immaginarsi no? ma lì è perché perché è la musica che conta non sei tu che suoni sì tu sei brava ma tu suoni un brano che non è tuo esatto è quello allora esprimi quello che esprimi insomma no? tu devi suonare Bach suona Bach devi suonare Beethoven suonare Beethoven e lì ti devi concentrare non fare delle tue cosce o peggio ancora no? cosa c'entra? ma perché ti devi ecco l'attenzione è lì devo guardare quello guarda come le vestiglie sempre il corpo sempre la parere passa in secondo piano alla fine magari il messaggio è vero la musica poi non l'ascolto neanche più perché sei una distrazione unica no? immaginarsi anche lì c'è tutto ma io faccio tanti esempi potrei fare tanti altri no? ci sono anche i preti non decorosi eh? che fanno i burattini in chiesa eh? che fanno i video che sono dei burattini no? non ti faccio i nomi quello milanese famoso è stato diventato che adesso un cretino di uno che veramente si mette di fare i versi questo non è decoroso non è perché non è decoroso è perché è un prete ma cavolo il messaggio che tu a pari di fatto lui i messaggi non li dassero non quelli stupidi no? perché dà proprio è un vuoto assoluto quel ragazzo lì dico ragazzo perché è giovane no? va bene ma è dignitoso i versi ma tutto è tu stai parlando di un di un porto un messaggio ma anche qualcosa che... non devi essere dignitoso quando porti quel messaggio lì sai cosa mi succede? no? è un messaggio talmente comunque potente talmente indescrivibile che a volte non mi sento comunque all'altezza di di parlarne perché è qualcosa che è talmente incredibile sì ma io credibile quindi ti sei raccorto che quando faccio certi video soprattutto di contestazione poi quando alla fine magari e comincio a entrare in un certo mondo io cambio anche nella faccia nel modo di parlare no? perché se gli stai parlando di una cosa seria prima magari dici no? un politico sei chi sei la va di ti 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 devi fuori anche magari perdi sesso dalla misura ma perché? perché non ha misura quel tale contro cui devi andare che vabbè è tutto un mondo tu quando cominci a parlare nello stesso video del mondo interiore io cambio rimane lì e cerchi di no? perché ti porta e ti 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 porta e tu parli di una cosa importante parli di mistica non puoi saltare fare i versi fare il burattino fai il burattino quando parla di pirate, quando parla di scemenze, allora fai il burattino, ma tu sei un prete, tu sei magari una persona, un filosofo, sei qui, sei là, e quindi cercano, e quello è il problema, e io dico rimango all'invito, anche gli scrittori, i poeti, tutto sempre verso la parte carnale, ossipita, sentimentale, emozionale, no? Ma per concludere proprio questo il discorso, che la bellezza è quella interiore, quella vera, quella che, e quindi la bellezza attrae, e la bruttezza invece respinge, ma parlare di bruttezza, la parola bruttezza, forse come dicevamo prima, è sbagliato, perché è quella bellezza estetica, carnale, che è diventata all'ordine del giorno, cioè ha, diciamo, sostituito la bellezza interiore, che è quella spirituale, giusto? un po' sulle parole, perché la bellezza può essere bella anche in qualche cosa che poi a carnale ti dà niente, perché sembra bella, è bella estetica, è ingannevole, è ingannevole, è tutto, no? Poi la bellezza salverà il mondo, anche lì, bisogna discutere così via di bellezza, no? Bellezza interiore, bellezza e creazione, cioè interiore, e non lo so, noi parliamo molto della natura, che è sempre lì, come un grembo che, no? Che partorisce la vita, no? Questo è il senso della natura, è ciò che sta per rinascere, no? Tutto quel senso lì, ma è chiaro che poi anche l'esteriore, vedi la natura, ma non è mica brutta esternamente, perché? Perché è bella interiormente, siamo noi che poi la roviniamo, no? Esatto. Siamo noi che la roviniamo, ma la natura è tutta un'estronde di bellezza, no? Vedi un tramonto, non lo so io, tutto, no? Ma perché? Perché è un qualche cosa che è interiore, così noi, insomma, è certo che non è facile, perché purtroppo oggi siamo lì a essere fraintesi, no? Sembra quasi che siamo picotti, perché noi magari ci scandalizziamo, ma chi si scandalizza? Io non mi scandalizzo perché vedo una persona e mi dico io sto male a vederla così perché tradisce se stessa, perché quella donna, quell'uomo lì tradisce se stesso, è un burattino, diventa un burattino. Ma perché comunque non è se stesso, cioè sì, non è proprio... Poi succede che a Monari fanno quattro salve questi cantanti, poi finito, vanno a casa, sono diversi, vanno in crisi, sono depresse. Ma tu sai benissimo che quando cantano va bene, c'è qualche cosa che li tira su, no? Quel momento lì poi cadono dentro, perché poi quando sono a casa, oppure quando è finito a quell'aspetto lì, che cosa sono loro? Cominciano a dire chi siamo nessuno, togli la maschera e c'è più niente, no? Sembra quando sono in scena, lì sul palco, mi fanno i cretini perché c'è qualche cosa che li rende cretini, no? C'è qualche cosa che va bene, lasciamo perdere il discorso, no? Però poi quando loro si confrontano con loro dentro, con loro interiore, dicono chi siamo nessuno. Ma non soprattutto alla fine. Va bene.